La movida milanese nelle mani dell'Andrangheta. Sono otto le persone arrestate dai carabinieri questa mattina all'alba in seguito all'indagine della direzione distrettuale antimafia. Quattro le discoteche di Milano protette dalla cosca dei Barbaro Papalia, i magazzini generali, il codice a barre, il De Sade e il Borgo. Gli uomini dell'Andrangheta gestivano i servizi di sicurezza e i buttafuori. Gli introiti venivano poi divisi dagli imprenditori con gli uomini delle cosche. Soldi che servivano a finanziare i membri della famiglia in carcere. Il personaggio principale, Agostino Catanzariti, è stato arrestato per associazione mafiosa come capo e organizzatore. L'Andrangheta offriva protezione e si occupava anche di recupero crediti per gli imprenditori con azioni intimidatorie. L'indagine odierna in particolare ha aggredito la cosca Barbaro Papalia, operante nell'Interland milanese, in particolare nella zona di Corsico, Buccinasco, Trezzano sul Naviglio. L'inchiesta è nata da un processo per bancarotta fraudolenta, carico dell'imprenditore Silvano Scalmana, a cui boss hanno offerto anche protezione dalla giustizia. I quattro dipendenti della sua società, fallita, avevano accusato l'imprenditore per la bancarotta davanti al curatore fallimentare per poi ritrattare dopo le minacce dei uomini dell'Andrangheta. Questa indagine conferma che in Lombardia sono gli imprenditori a cercare l'Andrangheta e non più il contrario, ha spiegato il pubblico ministero Paolo Storari della Procura di Milano.